I mondiali quest'anno abbiamo fatto la copiata, abbiamo preso i mondiali juniores sia di sci freestyle che di snowboard. È stato un impegno veramente posante per i miei collaboratori che si sono trovati a gestire in contemporanea due mondiali, però come al solito hanno dato il meglio di loro e siamo venuti alla grande anche quest'anno. Abbiamo ricevuto i complimenti sia oggi che ieri e anche il giorno prima dai rappresentanti della FIS che hanno detto che una stazione così accogliente, così bella, loro che girano il mondo non l'hanno mai trovata. Quindi continueremo, ci hanno dato una disponibilità a far diventare la Val Malenco il centro mondiale dello snow e del freestyle e ci proveremo, quindi ci sarà da impegnarsi, spero che sia le autorità pubbliche che anche gli operatori turistici della Val Malenco ci diano una mano perché diversamente da soli non ce la facciamo e speriamo di andare avanti su questa strada che sembra stia dando delle grosse soddisfazioni di presenza e anche di pubblico.